Salve costruttori, dopo un po' di tempo di assenza sono tornato perché ho finalmente preso il microfono nuovo e non sono più nei casini con la scuola e come potete vedere sto lavorando a qualcosa di grosso questo è un piccolo spoiler, in realtà adesso passiamo al video ok ragazzi, perdonate questa piccola interruzione ma durante il montaggio ho scoperto che l'audio del microfono è andato a quel paese nel senso che la cosa delle impostazioni mazzettate sembra un po' che è un po' troppo vicino per cui niente, spero che comunque vi vadate, buona visione bello a tutti i costruttori, ah già, la intro l'ho fatta nella clip prima ops, fa niente, non taglierò questa parte comunque, eccoci al video oggi andremo a modificare un set dopo un bel po' di tempo di assenza causa scuola e problemi con il microfono come detto prima che è il carroattrezzi, quello vecchio, vecchio di tempo fa, il 7638 non mi ricordo esattamente il piccanno, è probabile che sia tipo 2010-2011 comunque, nuova modifica e presto, dato che adesso al microfono arriveranno i vlog vari della Florida no, il vlog della Florida era già caricato sono rincoglionito fantastico il vlog dei Lego che ho ricevuto per Natale della stampante 3D, eccetera, sul secondo canale e arriverà poi in futuro, quando avrò completato lo spoiler che avete visto prima il timelapse di montaggio mentre oggi andiamo a modificare questo carroattrezzi per cui andiamo a prendere la nostra schiera di pezzi stavolta l'ho già preparata allora, in questo caso abbiamo qui i pezzi che dovremo togliere dal nostro carroattrezzi e questi invece sono i pezzi che andremo noi ad aggiungere spero di ricordarvi dove metterli nel caso ho qua la guida ma voi non fateci caso questo non ci serve per ora quindi togliamolo ok, per prima cosa andiamo a togliere questi 4 pezzi che sono questi due qua a lato e l'asse di sotto che non è propriamente un asse perché le due ruote sono staccate andiamo a cancellare anche questi quindi e andiamo a prendere e spostare ragazzi, io qua durante la fase di progettazione del video ho utilizzato due pezzi singoli qua nella leggenda li vedete uniti perché si possono eventualmente usare uno per due solo che io durante la progettazione ho usato blocchetti singoli per cui lo farò con blocchetti singoli allora, per prima cosa andiamo di sotto a fissare le ruote di cui abbiamo tolto l'asse così, perfetto e andiamo ad aggiungere poi dei supporti sotto il camion per il semplice fatto che rendono più comodo all'omino prendere gli oggetti e salire andiamo poi semplicemente ad aggiungere altri due birilli per il semplice fatto che io non avevo voglia di farlo per cui lo faremo e ho notato che manca la classica tazza non so se manca effettivamente anche nel carattrezzi molto probabilmente no però in questo progetto di Lego Digital Designer che non ho creato io l'ho scaricato manca per cui lo aggiungiamo noi ok, adesso lavoriamo sulla parte posteriore che ha un design particolare ma non mi piace tantissimo per prima cosa andiamo a inserire questi quattro pezzi questi pezzi serviranno per coprire un po' il meccanismo qua fuori quindi andiamo a prenderli e inserirli adesso giriamoli perfetto comunque in questo periodo sono stato assente a causa di problemi con il microfono perché si è fuso il mio microfono del computer e adesso ho preso un microfono USB e anche a causa scolastiche perché la pagella non è stata proprio delle migliori ovvero non sono morto il che è buono però non è stata probabilmente delle migliori per cui ho dovuto sistemare un po' di cose prima di poter tornare a lavorare comunque tornando al nostro video andiamo alla nostra costruzione andiamo ad aggiungere un ponte per far passare il filo da sotto e andiamo poi ad aggiungere questi pezzi per fissare il ponte al meccanismo di srotolamento del filo andiamo poi a prendere questo per livellare il tutto e queste assi qui quindi una da 1x6 e dei quadrati per coprire e assemblare meglio il tutto ok andiamo poi a chiudere sopra con questi due mattoncini e a sistemare un altro paio di sirene dietro che non siano sul tettuccio e questo ops ho sbagliato colore perfetto e poi andiamo a risistemare il tettuccio a nostro piacimento per cui andiamo a mettere questi e questi qui molto bene ragazzi dovreste vedere vedrete poi i futuri dei regali di natale che farò il video ormai tra vent'anni però fa niente è stata una cosa epica sono arrivati i pacchi dalla russia che avevo ordinato e dentro c'erano circa 200 euro di lego per cui questo natale tra altri set vari che ho ottenuto eccetera avrò ottenuto circa 3.000 pezzi molto probabile comunque ecco qua il nostro caro armato caro attrezzi finito io direi però che andiamo a ricolorare alcune parti come per esempio questa questa andiamo a nascondere qui e ricolorare questa parte perfetto andiamo quindi poi a fare così per quanto il bianco non ci sia benissimo non fa niente è carino e niente ragazzi direi che questo è tutto so che è stato un video abbastanza corto ma purtroppo non sono ancora propriamente a posto ho altro da fare e sto lavorando ad altre cose per cui volevo fare un video giusto per tornare ma poi torneremo rapidamente sul sul canale con nuovi video anche perché la lego fa dei set talmente belli che è difficile trovare un set da fare cioè vi faccio vedere un secondo il mio database di progetti se io apro qui si salvalo facciamolo come video come sette sei ok video ok perfetto comunque come potete vedere qua ho un bel po' di cose solo che non molti li ho dovuti scartare vabbè niente molti li ho dovuti scartare perché non 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 mi piaceva non era impossibile da modificare comunque spero che il video vi sia piaciuto io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie